Un'altra coppia magica, Panjin e Tongjie, il loro ritorno appositamente per i mondiali di Shanghai. Dopo i Four Continents dove abbiamo fatto il primo test, eccoli di nuovo in gara. Triplo tolupo in parallelo, perfetto. E il triplo tolupo lanciato, bellissimo. Triplo tolupo lanciato, bellissimo. Triplo tolupo lanciato, bellissimo. Triplo tolupo lanciato, bellissimo. Mi sto lasciando ascoltare, ovviamente, il boato del pubblico dell'Orientato Center. Non poteva che essere questa l'accoglienza per loro, non poteva essere anche questa l'applauso per Punginton Gio. Beh, davvero sono magici.